La normativa emergenziale varata per contenere la pandemia di Covid-19 ha in questi mesi fortemente incentivato tra le imprese pubbliche e private l'adozione del lavoro agile. Conosciuta anche con il nome di smart working, questa modalità consente ai lavoratori di svolgere le consuete attività lavorative dal proprio domicilio comunque a distanza. Ovviamente affinché possa essere efficace ed efficiente, accanto a computer, tablet e smartphone è assolutamente necessaria una connessione internet garantita da aziende specializzate come la Connesi. Per favorire questo tipo di attività la Connesi ha predisposto, grazie al suo mix di tecnologie, un sistema altamente sicuro che permetta di utilizzare questa forma di lavoro alternativo in qualunque posto, anche nelle zone più periferiche dove non sono presenti i migliori servizi. Questo viene realizzato attraverso un sistema sicuro basato su tecnologie che permettono un utilizzo dei dati che passano dall'azienda allo smart working in abitazione senza poter essere aggredibili dall'esterno. Questo permette quindi a tutti i lavoratori in modalità smart working di poter lavorare in maniera sicura e di poter effettuare conference call e video call senza nessun tipo di interruzione e senza problemi di sicurezza informatica. Si potrà obiettare che non tutte le aree del paese dispongono di un servizio internet adeguato fissato dall'agenda digitale europea in almeno 100 megabyte al secondo. È questo l'annoso problema del digital divide. Questo fenomeno viene combattuto dalla Connesi attraverso la realizzazione di infrastrutture di proprietà sia in fibra ottica che con tecnologie radio e questo permette a tutti gli imprenditori e a tutte le aziende di poter installare la propria sede ovunque essi desiderano perché ovunque si può portare una banda di connettività internet di grande qualità. La nostra offerta di connettività ha proprio l'obiettivo di ridurre le distanze e di oltrepassare i limiti tecnologici garantendo a tutti i cittadini una produttività migliore, una qualità della vita migliore, che diano una possibilità e una chance in più per affrontare questo periodo particolarmente difficile per tutti noi. Grazie a tutti.